amici carissimi di auto occasioni una puntata speciale specialmente dedicata a tutti centauri a tutti coloro che hanno la moto nel cuore perché sono a casa al grasso e sono da luciano moto infatti abbiamo attos che ci aspetta ciao federica ben arrivata grazie grazie mille eccoci qua atos tu hai sempre queste idee bizzarre ma belle e quindi oggi facciamo una puntata un po diversa dal solito una puntata itinerante perché noi spesso usiamo simbolicamente l'espressione di apriamo le porte di questo magico regno di luciano moto oggi le apriamo davvero perché voi ci seguirete e scopriamo insieme quello che è il centro non soltanto secondo me più grande ma anche più affascinante d'europa merita assolutamente una bella visita con modo di passeggiare davvero in mezzo a mille moto fantastico seguiteci andiamo compagni grazie 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 mille allora appena entriamo da luciano moto vogliamo subito papà colpire i nostri amici perché entriamo in un reparto proprio dedicato alla sportività dai 125 mille il mondo kawasaki bravissima federica abbomba proprio nel nel verde della della casa di akashi con tutti i modelli in pronta consegna abbiamo già tantissimi modelli 2024 stiamo aspettando le nuove anniversari quindi una serie che quest'anno il kawasaki è dedicato alle ninja per i 40 anni del del brand ninja grafiche dedicate e allestimenti esclusivi e anche queste sono in arrivo per cui il nei prossimi giorni saranno proprio già visionabili e toccabili con maria assolutamente si rinnoviamo a tutti quanti le offerte di kawasaki che ancora per questo mese sui modelli in pronta consegna vedono davvero agevolato l'acquisto diversi 650 mille con il kit tour rincluso nel prezzo e z 900 con un prezzone d'attacco a partire da 8990 nuova da immatricolare quindi ricordiamo i nostri amici che oltre alla famosissima operazione 50 qui ci sono tantissime promozioni nuove in questo momento assolutamente noi aderiamo contribuendo appunto per al vostro risparmio per l'acquisto non dimentichiamoci poi della nostra esclusiva operazione 50 per cento ineguagliabile da nessuno quindi venite mettetevi in gioco innamoratevi nel frattempo io ti lascio un attimino perché vado dalla tua degna spalla raggiungo michael perché abbiamo un fantastico reparto dedicato ai più piccolini a tutti gli under 18 mai ti aspetto a dopo michael ciao come stai tutto bene tu benissimo un mondo sottostante un altro mondo meraviglioso veramente endurofrotto modo da strada veramente possiamo incantare anche tutti gli under 18 assolutamente da noi potete trovare tutti tutti i tipi di moto a partire dalle moto da bambino strada cross minimo tard per salire poi al nostro ampissimo reparto dedicato a tutti i cinquantini usati e tutti i nostri 125 usati moto da strada scrambler motard due quattro tempi diciamo che abbiamo proprio tutto qui è impossibile non trovarla abbiamo anche tantissime moto nuove soprattutto quelle della quale siamo concessionari ufficiali tutta la gamma zontes tutto il mondo brixton della quale siamo concessionari e proprio per questo mese per premiarvi vogliamo omaggiarvi 400 euro di abbigliamento accessori da spendere come come meglio preferite e finiamo con il nostro angolino fantic dove vi ricordo esserci ancora la campagna sui caballero oltre a un fortissimo sconto di 400 euro da listino ufficiale vi regaliamo da parte nostra 400 euro da spendere come meglio preferite nel reparto abbigliamento accessori qui sotto non solo cinquantini e 125 abbiamo anche un'area dedicata al cross e alla regolarità dove ci sono di tutto e di più dai 250 ai 450 24 tempi venite comunque a scoprirli grazie michael e naturalmente raggiungo nuovamente atos ci vediamo dopo mi sono ricongiunta ad atos grazie dimostriamo questo reparto dove c'è una ampissima scelta di crossover assolutamente sì federica una gran parte delle crossover usate che abbiamo qua troviamo tantissime moto appunto di questo segmento quindi versi 650 e 1000 vostro un 650 mille onden e c750 ne abbiamo veramente tantissime per cui troviamo anche quella africa twin la regina un po delle delle crossover dedicate all'off road in particolar modo all'off road appunto tra cui c'è anche un'africa twin rally una di 50 pezzi numerati proprio il prodotto da hrc assolutamente davvero davvero molto molto stilosa e decisamente prestante per la guida in fuoristrada e poi qua c'è qualcosa che esce un po dagli schemi no ma infatti la parola viaggio devo dire che mi ha già portato a sognare ma non ti nascondo che sono rimasta colpita da questa meraviglia che è completamente fuori dai completamente fuori le dimensioni federica a volte non contano siamo grandissimi ma per ragioni di spazio questa è una triglide anniversary moto esclusivissima si parla di un anno di attesa arloy l'ha tirata fuori dal cilindro proprio per commemorare i 120 anni di storia del del marchio di milwaukee atos come nelle discoteche c'è la zona privé particolarmente esclusiva adesso entriamo in quest'area che di esclusività veramente ne ha assai perché siamo per incontrare la principessa mv augusta si federica io so bene che queste sono le tue preferite perché rappresentano davvero lo stato dell'arte a due ruote tutta la gamma disponibile anche qua in pronta consegna davvero le moto sono sono tantissime reparto fornitissimo con varie unità limitate c'è davvero il top sia per quanto riguarda la meccanica che la ciclistica e rimaniamo un po in casa italia questo reparto che cambia ogni volta volto perché tante moto nuove io ogni volta ne scopro di nuove vedo che oggi c'è una particolare attenzione forse a ducati aprilia assolutamente federica ne abbiamo anche qua tutta la gamma praticamente pronta consegna per cui dalla nuova mostra alla varia scrambler 800 1100 sport qua abbiamo una v2 belis anche la serie limitata e numerata assolutamente il top per quanto riguarda invece lo sport di ducati una v4 sp anche qua disponibile in pronta consegna e poi tutta la gamma aprilia quindi rs 660 che rimane la sportiva più venduta d'europa in configurazione anche extrema che già una versione chittata di scarico sc in carbonio con altre parti in carbonio arrivando poi alla tua legge che rappresenta appunto la versatilità in off road del marchio aprilia e anche quella v4 rsv4 factory quindi il top di gamma di gamma aprilia tutte quante disponibili in pronta consegna così come per il marchio guzzi anche qua dalle v7 le v9 le v2 85 alla v100 siamo in attesa della stelvio a breve saranno nei nostri showroom e non dimentichiamoci di benelli chiaramente anche qua marchio che rappresentiamo ufficialmente con le ultime trk 702 in pronta consegna con cui vi regaliamo il tris di valigine alluminio quindi sia sulla strada che sulla x venite da provare abbiamo il veicolo demo potete anche noleggiarla come tutte le altre moto non dimentichiamoci di tantissime ktm che abbiamo in pronta consegna e poi fantic anche qua caballero veramente facciamo il botto perché scendiamo a 59 90 come prezzo d'attacco se volete acquistare senza la nostra operazione 50 per cento e vi regaliamo 400 euro di abbigliamento accessori atos qui da luciano moto io mi diverto spesso a dare i numeri perché i numeri sono davvero rilevanti qui parliamo di 200 custom si federica davvero oltre 200 motociclette americane non in cui fa capolino il nostro reparto indian che presentiamo sempre appunto le nostre trasmissioni non dimentichiamoci che abbiamo un centinaio di harley davidson per cui l'altra parte della medaglia americana della motocicletta americana anche qua tutte quante disponibili in pronta consegna in perfette condizioni davvero parliamo di veicoli pari al nuovo completamente garantiti qua alla mia destra troviamo invece la nostra parte nostro reparto amministrativo dove le ragazze possono seguire tutti i nostri clienti per quanto riguarda i finanziamenti le immatricolazioni e le avvolture si fa tutto in casa si fa tutto in casa assolutamente siamo in grado di mettervi a vostro agio farvi scegliere la moto e consegnarvela in tre giorni lavorativi se non avete particolari frette per cui che se non va usata la moto è assolutamente pronta consegna venite tre giorni se non c'è fretta perché se c'è fretta da un giorno all'altro assolutamente le nostre moto sono tutte quante pronte per cui potete davvero venire a toccarle e toccarle con mano adesso ti porterei poi al piano di sopra le sportivissime le naked delle scramble dai non vedo l'ora andiamo andiamo un reparto nuovo atos dove non ero mai stato e chi ci accoglie qui si federica qua subito all'ingresso appunto nel reparto troviamo royal enfield che è un altro brand antichissimo davvero e qua nel reparto per punto c'è una vasta scelta di tutto quello che è un po la naked o la scramble quindi una serie infinita di triumph di moto guzzi e anche poi tutta la scelta non dimentichiamoci delle moto sportive giapponesi per cui le varie z 750 800 900 zx10 r gsxr 750 e 1000 e poi ti porto nel nel brand bolognese che rappresentiamo davvero in numero abbondantissimo direi che è impossibile trovare oltre 100 ducati usate tutte quante in un solo in un solo padiglione e merita davvero anche qua una visita perché le moto sono tantissime non sto adesso delle carte tutti i modelli ma ci sono tutte con tantissime unità merita davvero una visita il nostro sito ricordo che ha aggiornato in tempo reale ad oggi abbiamo in totale 1477 moto amici come vedete vi stiamo proprio facendo scoprire l'universo di luciano moto che è davvero sorprendente anche per me e siamo adesso in un reparto un po di nicchia perché i centauri che amano la bmw può essere considerato una nicchia non è vero assolutamente una nicchia degli amanti appunto delle moto prodotte a monaco di baviera è un altro brand storico assolutamente per quello che riguarda il segmento moto e auto qua addirittura abbiamo una r18 anniversary che bmw ha presentato a listino proprio per commemorare i cent'anni della prima motocicletta bmw prodotta nel 1923 e voi potevate non averla abbiamo dovuto averla per forza disponibile poi con altre versioni una first addiction davvero moto esclusivissima con un 1.800 boxer il motore più grosso prodotto mai da bmw motorrad che dire anche qua abbiamo un centinaio di moto usate tutte quante in pronte consegna tutta la gamma per cui partiamo dalle monocilindriche per chi vuole fare un po di off road o la 310 se abbiamo ancora la patente a2 per una naked molto molto agile e maneggevole davvero con tante moto rare esclusive come questa r12 cl che era una cruiser appunto 1200 di cilindrata prodotta appunto da bmw tantissime gs visitate davvero il nostro sito perché abbiamo tantissimi clienti che addirittura acquistano senza essere mai venuti qua a distanza si può fare anche quello tranquillamente quindi contattatemi o contattateci comunque via mail o tramite whatsapp con i contatti che trovate sul nostro sito potete tranquillamente fare l'acquisto a distanza la moto ve la consegniamo a casa in tutta italia isole comprese però meritano comunque una bella visita ai nostri showroom ma decisamente ma secondo me adesso proprio si organizzeranno i tour per venire a scoprire il mondo di Luciano e noi naturalmente teniamo sempre le porte aperte porte aperte per tutti siamo pronti a ricevervi molto volentieri e offrirvi anche soltanto un caffè maicon il piacere di muoversi sulle due ruote non hai dato soltanto dei grandi viaggi e della sportività ma anche dalla possibilità di girare per le città con comodità e quindi siamo nel regno degli scooter assolutamente sì questo è il nostro reparto dedicato agli scooter con oltre 300 veicoli nuovi usati garantiti anche fino a cinque anni e prendiamo la palla al balzo per parlare di super soco della quale siamo concessionari ufficiali e proprio adesso sono iniziati gli incentivi statali con e senza rottamazione quindi vi aspetto in sede per farvi un preventivo completamente gratuito amici questa volta una chiusura in un luogo che vi abbiamo mostrato poche volte ed è il reparto dedicato all'abbigliamento agli accessori decisamente all'altezza di tutto l'universo di Luciano perché anche qui possiamo dare i numeri e per rendervi un po l'idea dirvi che abbiamo 500 caschi bravissima federica davvero anche qua i numeri fanno impressione potete consultare il nostro sito ricordo a tutti che spediamo in 24 ore per cui scegliete l'articolo e vi arriva a casa è il meglio delle migliori marche rappresentato davvero dal dagli oltre mille metri quadri di reparto dedicato appunto a voi biker grazie a te grazie michael io personalmente mi sono molto divertita spero anche voi bella assolutamente ma sicuramente abbiamo davvero fatto brillare gli occhi ai nostri amici da casa puntata straordinaria quindi vi aspettiamo seguiteci anche sui social un saluto carissimo naturalmente la parte di Luciano moto di auto occasioni di atos di michael e di fede ciao 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 ciao